Stefano Sensi sarà il grande colpo del mercato dell'Inter? Può essere lui il grande colpo del mercato dell'Inter? La domanda che ci siamo fatti dopo questa partita con l'Italia, Italia-Bosnia 1-1 in cui hanno brillato gli interisti, barella su tutti ma anche Sensi andato in gol, grande protagonista con una buona partita, 120 palloni toccati in una gara in cui i ritmi non sono stati elevatissimi, una partita non brillante ma Stefano Sensi c'è stato e dopo giorni in cui dalle nazionali arrivavano solo brutte notizie come gli infortuni di De Frai e Bastoni che per fortuna nulla di grave per entrambi che rientreranno a metà della prossima settimana è arrivata la bella notizia del ritorno in campo appunto del nostro Sensi, per lui come detto 90 minuti cosa che con l'Inter non accade purtroppo da tanto tempo per via dei tanti problemi che ha avuto in questa stagione, in questa sua prima stagione all'Inter, un ottimo segnale in vista del futuro di un Inter che in questi giorni come vedete sta un po' faticando sul mercato comunque c'è tanto diciamo nervosismo attorno al mercato dell'Inter soprattutto da parte dei tifosi perché si aspettavano grandi investimenti, si aspettavano grandi colpi, si aspettavano soprattutto un colpo come per esempio quello che poi mette a segno il Milan con Sandro Tonali e questo dietro fronte da parte dell'Inter su Sandro Tonali ha fatto molto discutere alimentando questo nervosismo. Tra poco ne parliamo per quanto riguarda la situazione Sensi, dicevamo c'è stato inevitabilmente un cambio di rotta nel mercato dell'Inter e io vorrei avere anche un vostro parere, voglio sapere che cosa ne pensate voi perché ci ho pensato tanto in queste ore soprattutto dopo aver visto la gara della nazionale in cui Sensi ha giocato in un ruolo che era il suo ruolo vecchio, diciamo così, quello di regista, vista l'assenza anche di 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 Giorginio, ha toccato tanti palloni, un ruolo che all'Inter potrebbe anche ricoprire perché ha tutte le caratteristiche per farlo ma io ho dei dubbi nel senso che secondo me Sensi si è evoluto, è diventato più una mezzala di regia, diciamo così, quindi che deve giocare un po' più largo e questa secondo me è una chiave molto molto interessante perché perché permetterebbe secondo me all'Inter anche di poter in qualche modo sopperire all'eventuale partenza di Marcello Brozovic che come stiamo vedendo dalle ultime voci di mercato, Brozovic è appunto uno dei possibili sacrificati da parte dell'Inter per poter far cassa e reinvestire su altri obiettivi come per esempio il grande sogno come abbiamo raccontato anche in un altro video pubblicato sul nostro canale YouTube di Passione Inter e sui canali di podcasting che è Ngolo Kanté. Avere quindi un Sensi che sta bene, che mette da parte i problemi fisici che ha avuto in queste stagioni all'Inter soprattutto, permetterebbe di sostituire eventualmente Brozovic con un calciatore più interditore puro senza che abbia quindi anche le doti di impostazione di regia che invece ha Marcello Brozovic, mantenendo comunque intatti gli equilibri e mettendo soprattutto Christian Eriksen che per me resta al centro del progetto Inter, sarà al centro del progetto Inter nelle migliori condizioni possibili per rendere appunto al meglio la prossima stagione. Dicevo, ci siamo molto lamentati appunto, tanti tifosi sono lamentati del mancato arrivo di Tonali, però ho fatto anche una considerazione che in parte vuole essere tra virgolette una provocazione e su questo voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Perché? Perché l'Inter, dicevamo, sta facendo un mercato secondo me abbastanza logico e qui mi attirerò sicuramente delle critiche, con prima di tutto la ricerca di andare a tappare quelle che erano le esigenze prioritarie. Un grande esterno a destra è arrivato Akimi, riscattare Sensi e sono stati spesi 40 milioni per Akimi più 25 per Sensi e poi allungare la rosa in alcuni reparti fondamentali. Kolarov che va a fare l'alternativa a bastoni e anche a Young sulla sinistra, Vidal vicino che va ad aggiungere esperienza, qualità e gol al centrocampo e Darmian che dovrebbe arrivare, che sarebbe un'alternativa jolly che non fa sognare ma che completa un po' i reparti. Adesso sarà il momento di sfoltire la rosa, incassare e poi provare gli ultimi colpi top per completare la rosa. Ma allora io mi sono chiesto anche. In un mercato in cui le cifre che girano comunque sono rimaste alte, quindi per fare colpi a meno che non si trovino società un po' in difficoltà non è semplice e vendere soprattutto a buone cifre non è semplice. Il mercato è molto bloccato soprattutto per l'Inter che ha storicamente difficoltà a vendere. In un mercato in cui tutte le mosse devono essere calibrate al millimetro. Secondo me ci si può permettere di fare una sola scommessa a centrocampo, soprattutto che è un reparto per me nevralgico in squadre a questi livelli qua. Per cui andare su Tonali a 35 milioni di euro, oltre 35 milioni di euro, che è sì un grandissimo giocatore e sono convinto che farà una grande carriera e che farà bene anche al Milan, ma che avresti dovuto testare dopo un solo anno di Serie A, avrebbe dovuto fare il salto in una grande squadra e si sarebbe dovuto confermare, magari avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi, di lottare quei soldi che sono stati spesi dal Milan per Tonali su il riscatto di Sensi, quindi fare dietro fronte su Tonali a spendere 25 per Sensi più altre operazioni, sapendo consapevoli che Sensi si porta delle grosse incognite fisiche che abbiamo visto in questa stagione, allo stesso tempo, se Sensi sta bene, ho pochi dubbi sul fatto che possa essere davvero Stefano Sensi il grande colpo del mercato dell'Inter. Ecco perché voglio anche immaginare che l'Inter abbia deciso di fare la propria scommessa su un calciatore che già conosce, che ha già in rosa e che quindi abbia deciso di dirottare poi le altre risorse su altri colpi più mirati, come stiamo vedendo in questo momento. Fatemi sapere se siete d'accordo con il mio pensiero, se siete d'accordo con me, scrivetelo ovviamente nei commenti, ovviamente speriamo che Sensi possa star bene, perché il Sensi che abbiamo visto nella prima stagione all'Inter è un grande giocatore e, dicevo prima, può permetterci di sostituire Brozovic nel caso in cui dovesse partire con un interditore, allo stesso tempo se non riesci a vendere Brozovic e lo tieni in rosa, abbiamo visto che Brozovic e Sensi possono coesistere alla grandissima e quindi, se sta bene, ripeto, per me la scommessa è giusto farla su un calciatore che hai già in rosa e non aggiungere un'altra potenziale incognita, che poi magari tanto incognita non è, però c'è sempre la riprova del campo poi a dare il giudizio finale. Fatemi sapere se siete d'accordo, ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube, cliccate sul pulsantino, iscriviti, tutti i giorni siamo in diretta alle 19, nuovi contenuti che trovate anche in formato podcast su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.